La prossima opera signori, la nuova Suzuki Baleno, complica dotazione di serie e di più motore a 16 valvole, doppio airbag, sospensioni attive, ABS. 35 milioni! 34 milioni! 33! 30! 31, 32, 24 e mezzo! 24 milioni e mezzo che vi fa la giudicata! Suzuki Baleno, fino al 30 aprile il climatizzatore è gratis. Investite in un'opera che vale!